Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 presta l'attenzione ai veicoli fermi o in avaria tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma e tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze. In FIPILI si segnala una perdita di carico tra Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Si informa che la strada provinciale 42 di Luco del Bagnone nei comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperie e San Piero sarà chiusa oggi fino alle 16 dall'intersezione per Luco di Mugello alla rotatoria dell'arrabbiata per le finali del Mondiale Ferrari. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!